E oggi nella mia cucina è il notatore Gennaro Russo che ci sta preparando il timbando napoletano. Cos'ha da parlare? Ma non guarda te! Guarda Omar! Mamma non ti dispiacere ma non viene. Certo che viene. Io lo dico per non farti star male è impossibile che viene. Io ci ho parlato. Con chi? Con Maria Grazia. Maria Grazia chi? La cucinotta. Non c'è carne di maiale. Ma sei sicuro che non c'è carne di maiale? E altrimenti come non facciamo il timballo? Io lo so. Grazie a tutti.